Maledetto Martin Gerricks No, non è un posto da hater, anzi massimo rispetto però per scoprire il perché di questo titolo ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato Martin Gerricks ha recentemente vinto la DJ Mag Top 100 ovvero la classifica dei migliori DJ al mondo secondo la rivista DJ Mag o meglio si può dire Martin Gerricks è il DJ più popolare al mondo nel 2022 non si tratta di discutere questo premio tra l'altro secondo me più che meritato così come abbiamo già parlato in altre occasioni della classifica dei DJ Mag della rilevanza per l'ambiente dei DJ, della dance e quant'altro neanche ho un particolare odio nei confronti di Martin Gerricks alla fine è un DJ che rispetto molto la sua storia la conosciamo in breve nato nel 1997, olandese nel 2013 è uscito giovanissimo con la Super Hit Animals e di lì poi è iniziato il suo successo planetario a partire dalla Spinning Record che poi ha abbandonato per entrare in una major nella Warner e abbinare come dire la musica dance anche a tendenze più pop e questa è una scelta più che intelligente l'ha portata ad affermarsi stabilmente come uno dei DJ più conosciuti al mondo nonostante la sua giovane età su questo niente da dire c'è un problema però che io associo alla figura di Martin Gerricks e al modo in cui ha sviluppato la sua carriera che reputo per me un modello sbagliato per chi si avvicina oggi al mondo dei DJ e al mondo della produzione musicale ecco perché dico maledetto Martin Gerricks il problema è che Martin Gerricks è riuscito con una canzone a passare da essere un semplice studente delle scuole superiori ad essere un divo di livello mondiale e un artista conosciuto in tutto il mondo e questo cosa comporta? comporta che i ragazzi e le ragazze tendono a voler cercare fin da subito il brano perfetto il brano che possa essere di successo Martin Gerricks non ha fatto nessun tipo di gavetta molto probabilmente ha suonato a delle feste con degli studenti e poi l'anno dopo era il Tomorrowland e questo è un ideale è un modello è un tipo di carriera secondo me sbagliato per carità lui ha fatto benissimo anzi il punto è proprio questo Martin Gerricks è un fenomeno è una persona unica al mondo insomma ha delle qualità assolutamente uniche e non riproducibili non si può studiare lui per cercare di ricreare quello che ha fatto perché è veramente un caso straordinario sarebbe come chi diventa ricco grazie a una vincita al superenale 8 e poi allora fa i corsi su come diventare ricco ecco è esattamente questo il fatto è una probabilità estremamente bassa tale da non renderlo un modello riproducibile Martin Gerricks non è un David Guetta non è un Bob Sinclair non è neanche uno degli Swedish House Mafia che sono tutti DJ artisti che hanno un percorso lungo alle spalle hanno un percorso accidentato hanno varie evoluzioni musicali tecniche e non prima di diventare degli artisti così affermati nella scena dance e pop Martin Gerricks invece è esploso fin da subito nonostante si possa apprezzare tra l'altro nelle sue interviste nelle sue talk Gerricks ha dimostrato veramente di essere un ragazzo intelligente preparato umile quindi ha tantissime caratteristiche capisco che abbia così tanti fan che lo seguono che lo adorano e va benissimo questo però se vuoi cercare di fare questa vita questa carriera prendi questo esempio come qualcosa di straordinariamente eccezionale e cerca invece di dirigere le sue attenzioni su altro su fare le serate qua e là cercarsi di creare un contesto locale nel quale suonare con l'obiettivo di andare oltre cercare di dedicarti alla produzione con continuità e quindi è molto improbabile che il primo brano che esce dal tuo computer sia quello che definirà tutta la tua carriera è molto più probabile e molto più sensato che ce ne siano decine e decine di tentativi andate a vuoto decine e decine di brani che nessuno sarà interessato ad ascoltare è molto difficile riuscire ad ottenere fin da subito l'attenzione di una grande etichetta discografica è molto probabilmente anche sbagliato provarci è bene crearsi un percorso di base per poi riuscire ad attrare sempre più qualcuno di livello più importante idealmente quindi ecco in questo senso direi di riconsiderare la figura di Martin Gerricks è sicuramente un punto di riferimento per chi ascolta e apprezza la musica dance però va ricollocato per quello che è il contesto suo di riferimento e anche il nostro ora ci sono anche le male lingue sul fatto diceva era cugino di hanno investito tanti soldi sono discorsi che non ci interessano ne abbiamo anche un po' parlato su questo valore fittizio che hanno i soldi e gli investimenti allo stesso modo è un merito riuscire ad attrarre gli investimenti di una grande casa discografica e riuscire a valorizzarli quindi non è un'altra nota di demerito cioè note di demerito non ce ne sono sulla figura di martin gerricks lo considero semplicemente un modello sbagliato da seguire e un modello talmente eccezionale che sia difficilmente replicabile la sua strada fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi